Oggi concludiamo la prima fase del nostro studio perché i nuotatori genovesi sono la sesta società che in questo primo trimestre, in questo primo semestre del 2015 abbiamo analizzato. I nuotatori genovesi, come quasi tutti gli altri sportivi, sono bravi, si alimentano in maniera adeguata, possono migliorare perché comunque tutto sommato ci sono sempre spunti di miglioramento. Quali sono stati i punti di maggiore interesse in questa ricerca? I punti di maggiore interesse, come sempre, sono quelli legati al tipo di rapporto che c'è tra il cibo e l'alimentazione. Quindi è stato uno dei punti più importanti che abbiamo analizzato capire quali sono i tempi che trascorrono da quando l'atleta comincia a nutrirsi e quando comincia a fare attività sportiva. E altrettanto da quando smette di fare attività sportiva, quando ricomincia a nutrirsi. Sì, il numero è soddisfacente. È interessante questa iniziativa della Montallegro che molto probabilmente va a colmare qualche lacuna nelle conoscenze dell'alimentazione, nel senso di routine giornaliera di alimentazione per i ragazzi che fanno attività di nuoto. Sappiamo tutte le problematiche che nascono nell'allenamento, le famose tre ore dopo l'alimentazione per entrare in acqua, le condizioni climatiche, l'apporto calorico, il tipo di allenamento che si fa. Noi poi abbiamo anche la parte riguardante il nuoto di fondo che ha un'alimentazione particolare. Aspettiamo adesso i risultati di questa ricerca che non ha visto soltanto noi impegnati, per cui il numero di atleti è sicuramente alto e ci darà qualche nota particolare che noi trasmetteremo ai genitori in quanto gestori alimentari dei nostri atleti.